Hola chicos, benvenuti di nuovo con Crash 2, andiamo a fare il terzo livello Qui già si nota un po' di difficoltà, ci sono due gemme da prendere grigie Adesso prendiamo la prima, e io scappo subito di corsa Ora capirete perché Ora, fra... 30 secondi Devo cercare di fare il prima possibile, perché appena inizia il livello Scatta automaticamente, senza saperlo, un cronometro Dobbiamo arrivare alla fine del livello Oh, senza morire neanche una volta e avremo una gemma grigia Poi per l'altra vi farò vedere dopo Comunque sono partito abbastanza bene perché avevo 59 secondi mi sembra Quindi in teoria dovrei farcela, a meno che non mi mancata Poi vi spiego a che serve quella gemma blu a piattaforma Prima prendiamo la prima gemma grigia 20 secondi, ok a voglia, dovrei farcela Avendo due agu agu, io posso benissimo andare avanti Anche se prendessi due volte le mine Ecco una volta, già l'ho presa Comunque, ne ho due Quindi, ok, ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta, qui ce l'abbiamo avanti a carnivora Quindi, cristallo preso Una gemma grigia presa Con due secondi che avanzavano Adesso andiamo a prendere la seconda gemma grigia Che si prende salendo sulla gemma blu a piattaforma, diciamo Hang 8, ma che vuol dire? Boh, non lo so Hang 8, non lo so 8 8 Hang appeso, appendilo, non mi ricordo Vabbè qui c'è Cortex, ma non lo faccio parlare Andiamo a prendere la seconda gemma grigia Se si arriva in acqua Cioè proprio a sguazzare dentro il fiume A cuaco non è che ci salva Quindi siamo completamente morti Bene, adesso dobbiamo prendere tutte le scatole Io i frutti pumpa non li prendo tutti Perché vi ho già detto più volte che è facile qui avere 99 vite Purtroppo questo a cuaco non ha effetto Perché siamo sul, come si chiama, skateboard d'acqua, non lo so Qui c'è una vita Facciamo i yellow bones Bello, mi piace troppo questo livello sopra gli alberi Ricordo un po' Super Mario Eccoci arrivati Prendiamo questa gemma che ci teletrasporterà No, tele no Ci trasporterà In un livello dove c'è un pelino in più di difficoltà Ok, a me già sta avvenendo l'ansia Perché qui in pratica io sono morto tante volte Bisogna saltare su queste due scatole La mia è da ride perché già so che muoio Devo prendere un respiro profondo Allora, uno, due Ecco infatti, come non detto Questa è una delle tante Spero di sbagliarmi Rifacciamolo Sono senza maschera Ma c'è già l'ansia Oh, come devo fare Allora Oh, non ci posso credere Fa male che c'è anche il checkpoint Bene, ora qua dobbiamo fare un po' di avanti e indietro Ah, comunque per accelerare si schiaccia X O cerchio Oddio mio Vabbè va No, vabbè non ci credo E prendila Sì, sì Vola Vai nella giungla Ah, un parto Mi sono sempre chiesto Cosa c'è Dove ci sono quelle due pente carnivore Io ho provato ad andarci Ma si casca giù in acqua Bene, abbiamo tolto questa parte difficile Continuiamo il livello normalmente A prendere le casse A prendere le casse Ottimo Livello completato al 100% Ci vediamo al prossimo appuntamento on Crash 2 Ciao